arrivare a destinazione entro le ore e mezzogiorno e 12 e normale perché alle due abbiamo il volo nel vedere che abbiamo corso come le matte e poi stanno ad aspettare sei ore quello sicuramente però meglio arrivare in anticipo che arrivare in ritardo non me lo dimenticherò mai ok c'è un piccolo problema un paese di tipo 300 persone ci sono tre aeroporti adesso siamo passate per un casello tipo militare dovremmo essere giuste ci sono due gay e praticamente ti chiamano a voce qual era la probabilità che si rompesse il rullo e dovessimo aspettare le valigie 40 minuti baby siamo arrivate finalmente questo nandos ti piace bestiale siamo a job work joannesburg domani maurice dove siamo this is a garden court job job un aeroporto immenso grande vero tre piani super nuovo super efficiente nè sicuro per niente esatto così hanno detto va bene però ci sono tante guardie abbiamo appena mangiato è da nandos nandos fammi vedere se acquisto io ho acquistato il cappello per il safari quando abbiamo finito di fare il safari adesso che ho il cappello me la sento possiamo volare mi sento un ranger te la senti con questo grosso allora sì meglio degli altri ma al cappello sei pronta ad atterrare? siamo sane salve e atterrate